Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non scopriteli, non scopriteli, non scopriteli. Alla var dice che non è successo. Non c'è stato il bacio, lo chat? Ma come non c'è stato? Lei dice subito la chat? Ma c'è la fatta, non me l'ha data. Ma io non gliel'hai data, insomma. Ma sei computata. Facciamo così, il bacio c'è stato? Sì, ragazzi, c'è stato... C'è stato... C'è stato il bacio di abbandonare la scena. Apre bocca, apre bocca. Perché è stata per te? No, che io sappia. La scena è finita, ma lui continua a provarcene. Basta! Un altro bacio? Certo. No, no, io direi basta, ma io basta. Un bacio che è abbastanza come il cucano oggi. Ma mi vedi? No, amore, non ti vedo. Cosa stai facendo? Usiamo un programma in inglese, fai pure le domande in inglese. Cops 2, underscore, gifted a tier one sub to Alexis De Beer. They have given 21 gift subs in the channel. Amma, come, amma, let's see. Ok, 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 ok. Cos'è che è? No, ma non è vero. Ma non fa sempre che gara, ragazzi. È un bellissimo... Anna? Ciao, rosso! Ciao, cucciola, come stai? Bene, tu? Bene, perché questa sorpresa? Perché oggi mi sento buona. E qui ha detto, faccio un salto dal rosso? Da quel coglione? Non me l'aspettavo. Ma dove sei? Aspetta, vieni qua, vieni qua, ok. I fianchi, i fianchi un attimo. La manina. Ok, 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 ok. Ammazza che fianchini hai già io. Le tette non fanno l'età? Esatto. Con documento sempre. Fanno sesso? Ma fa... Scusa. No, 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 18 o più. Ma il comparativo è 18 o più? No, 16 o più. Vabbè, scialla. Scialla, tanto te va bene, io lo so ogni volta, vai tranquillo. Aspetta. Mamma mia. Che so per fare, Xiii? Max? Io non ho il PC sgravato. Quanti anni hai? Oh, mister! Dai, dai, dai! Scusa, ma che minchia c'è questa roba? Non lo so, vai. Oh, forza lì in mezzo, eh! Sei rapido, dai, dammi qua! Dai, vai in mezzo, veloce, dai! Un codino di merda, mettila dentro! Un codino di merda! Un codino di merda! Un codino di merda! Chi cazzo sono? Chi cazzo sono? Chi cazzo è? Chi cazzo è? sono male ecco ok sto pure lo sto mandando non è scusa mamma ok attenzione sta arrivando sta arrivando il capo lui è uno youtuber famoso lui è veramente famoso ok mettiamoci tutti in te che è un momento importante è un momento importantissimo ok devi stupirla soltanto con i gesti fai una squadra tu e gli sdronghi e vieni contro di noi bravo Berlino ci fai una sola domanda tu vuoi far parte della mia comunità di tutte le Gianmarco e Strong allora io vorrei farne parte però ho un presidente che è più ricco che si chiama Sespo e io ho la fascia da capitano il cane? no te il cane come si chiama? Romeo mamma mia brutto il nome bruttarello bruttarello non so se è più brutto il nome o lui lui era nell'anno che non ce l'ha fatta quanti anni c'ha? quattro ah vabbè c'è ancora un po' si si scrivi a su tre che tu non mi suiste ok ragazzi adesso acqua è la parrucata però è per me era si si però calma è arrivato un momento critico farti no ragazzi se si bacia non voglio 500 euro è la simone che ha passato ragazzi calma tutti per favore è arrivato quel momento no il momento il momento di valutare il bacio ok ho paura ok copri tira un po' su teniamo su noi come fai tutte le volte che fai le dirette con quei sorche ma non sta col cazzo che ti esce dai pantaloni Roscio ma perché io mi seguo in diretta ogni volta eh io mi seguo in diretta ogni volta prima della vera ah ti segui no ma svela una cosa ma svela una cosa ma concludi qualcosa però hai concluso con Martina Smeraldi almeno tu sei fatto fatto un po' cotto no aspetta Roscio Roscio rispondimi serio tu sei fatto fatto un po' cotto da Martina Smeraldi perché se no stai proprio a usare male sta cosa di internet eh mi sa che adesso stai proprio a usare male l'hype bro se ti sei fatto fare un soffocone dalla Smeraldi è sbagliato con mamma e papà nella stanza vicino piano hotel merbnb la seconda volta rendila un po' più speciale anche perché no no bro ma mi sono spostato in taverna certa ma ecco perché ma non c'era Alex in taverna no Alex era sopra non è vero ovviamente non ho mai detto una roba del genere altre cose che sentite di raccontare è una delle mie cioè di come mi sono rapportato dentro a Mykonos lo schifo non devi toccare è aperto gestione attività li prendi sempre pallo li prendi sempre pallo lo conosce bene ma perché è lui che non arriva qui in fondo è una certa non sa neanche se ce la farà è quella la cosa è quello il problema concordo a rimorchia rimorchia perché oramai tu hai 20.000 euro benissimo no vabbè questo stop 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 qui c'è stato uno scambio di micro mamma mia quanto vogliamo dare a questo bacio assenza vai via via grazie a te che hai participato quanto vogliamo dare a questo bacio da 1 a 10 4 e maggio porco duro porca puttana no vabbè è so peggio è so peggio è so peggio è so peggio Non guardare però, te, te, non guardare, ok, posso, vai, ci siamo, ok, fatto!